Buongiorno a tutti amatecnologi, come probabilmente già sapete Amazon ha inaugurato la sua app Amazon Music anche per gli utenti Prime. Cosa vuol dire? Che oltre a offrire il servizio di Amazon al limite che è sostanzialmente il concorrente a Spotify e che costa 9,99€, gli utenti che hanno sottoscritto il Prime su Amazon beneficiano poi di servizi aggiuntivi che sono Amazon Prime Video, Amazon Books e ora anche Amazon Music che è sostanzialmente una versione light di quella che è Amazon Unlimited. Una volta che scarichiamo l'app e se abbiamo già l'app di Amazon installato dovrebbero riconoscerci in automatico l'account e chiederci a quel punto se vogliamo sottoscrivere Amazon Unlimited oppure se vogliamo usufruire del servizio incluso appunto nell'offerta Prime, cosa che ho fatto io. Questa è l'interfaccia principale, abbiamo le principali playlist che come su ogni servizio di musica e streaming ci propone Amazon anche se ok adesso ne carica un po' di altre e poi abbiamo qua sotto vedete navigare recenti musica e cerca. Musica ovviamente è quella che andiamo un po' a personalizzare secondo i nostri gusti ovvero noi su ogni playlist vedete che c'è questo più e poi c'è il menu dal quale possiamo aggiungere ad esempio il brano alla playlist. Aggiungiamo quindi alla playlist di Paolo che ho già creato e poi andiamo ad aggiungerne un altro con il più. Qua si crea secondo me un po' di confusione perché appunto c'è questo più che semplicemente crea questa playlist sostanzialmente di brani recentemente aggiunti nel cloud e questa cosa secondo me è un po' confusione perché non si capisce onestamente se dobbiamo considerarla come una playlist o come altro. E poi ovviamente c'è la nostra playlist che è quella che si tratta come al solito. C'è poi la pagina, la playlist tra virgolette dedicata agli acquisti, qua secondo me ha preso quello che era l'acquisto di un cd avvenuto in passato i brani inclusi nel cd sono stati semplicemente aggiunti alla nostra libreria e questo se avete usufruito in passato di Amazon per acquistare cd è sicuramente una novità, una cosa interessante perché è da prendere in considerazione. Avete già sostanzialmente la musica che avete acquistato. Andiamo poi qua ovviamente abbiamo anche le radio e poi abbiamo anche le playlist diciamo creati di default da Amazon o chi altri. Andiamo a vedere quindi come la cosa importante in questo tipo di abbonamento è capire i brani come sono e qui è secondo me la prima nota dolente perché i brani sono datati secondo me perché comunque abbiamo la musica che non c'è di Coetz, abbiamo dove che era, avevo beccato Taylor Swift con Shake It Up che è un brano anche quello veramente datato, eccolo qui, Wake Me Up di Avicci. Insomma veramente se dobbiamo guardare i singoli brani devo dire che non varrebbe neanche la pena di star qua a guardarlo perché si tratta veramente di brani abbastanza vecchi rispetto a quello che è la musica, le playlist che sono le playlist attuali. Se invece a noi ci interessa semplicemente un servizio che offre un po' di musica che peraltro non paghiamo perché è inclusa nel nostro Prime, allora sicuramente abbiamo qualcosa da valutare. In questo caso devo prendere in considerazione e andiamo a vedere una cosa interessante, come funziona ad esempio il player. Qua inizialmente lo stavo odiando questo player perché non mi piaceva questo pulsante che è quello che fa partire il playback perché? Perché è sempre invasivo, ogni volta che clicco su un brano vedete che parte a tutto schermo, tutte le volte, non è che semplicemente mi fa ascoltare la musica, vedete tutte le volte lui si mette a tutto schermo. Però poi ho scoperto le funzioni di questo pulsante che sono sicuramente molto interessanti. Beh innanzitutto con lo swipe up si può mettere a tutto schermo quello che è l'album, ma soprattutto tenendolo premuto compare una sorta di menu contestuale, ma tenendolo premuto verso destra o verso sinistra, adesso spero che si riesca a vederle, si può fare il fast forward e vedete qua che ci mostra anche l'avanzamento. Quindi questa cosa l'ho trovata veramente molto intelligente e molto ben fatta. Qui ci sono delle cose che, tipo quella cosa che veramente ogni volta si mette a tutto schermo e onestamente non mi piace, però ci sono anche altri dettagli che invece devo dire sono veramente ben pensati. Anche se il fast forward non so quanto spesso lo si utilizzi, però è stato veramente un ottimo modo per implementare, per interagire con questo pulsante. L'altra cosa che invece non mi è piaciuta per niente è l'icona. La vedete qua in alto a sinistra che è molto simile a quella di Amazon della consegna dei pacchi, però mi sembra così una memoria che sia più piccola. Quindi o la scambiate per la consegna dei pacchi o dovete mettere gli occhiali per cercare di capire che icona è quantomeno le prime volte perché veramente è difficile da capire. Vedete, rispetto a quella da parte di Music Smatch, si vede 100 volte meglio quella di Music Smatch rispetto a quella di Amazon. Per il resto, devo dire, è un'ottima soluzione veramente per chi vuole una cosa semplice, per chi non ha grosse esigenze in termini di musica, per chi vuole semplicemente ascoltare la musica senza avere per forza gli ultimi brani. Se invece veramente siete sempre lì alla ricerca degli ultimi brani, delle ultime playlist, allora questo servizio sicuramente non va bene perché mancano quelli che sono gli ultimi brani disponibili solitamente nelle classifiche tipo Top Italia o Globale, eccetera, e quindi questa cosa sicuramente dà fastidio. Però, essendo inclusa nel Prime ed essendo che per gli utenti Prime è gratuita, è comunque un servizio da tenere in considerazione perché comunque è qualcosa che ci viene dato sostanzialmente a gratis. Non è vero che è gratis perché noi paghiamo il Prime, però comunque si tratta tutta di una serie di servizi che il Prime include e quindi fa piacere poi anche vederli applicati. È tutto per questo video. Ah, un'ultima cosa che volevo farvi vedere. Un'altra cosa che mi piace, ad esempio, qua, questa mia tendina, vedete che ci dà la possibilità di selezionare musica online o musica offline, quindi non abbiamo dubbi su cosa stiamo ascoltando, qualora qualcuno si ponesse qualche remora nello streaming, perché magari non sa se il brano è scaricato o meno. Qua, invece, tramite questa selezione, non ci crede veramente nessun tipo di dubbio, perché è molto facile da interpretare. Dicevo, è tutto per questo video. Abbiamo visto, appunto, Amazon Music. Se vi è piaciuto, condividete o lo mettete del like, ma soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!